Per me far parte di questo progetto non vuol dire solamente suonare insieme ma vuol dire anche fidarsi delle persone con cui si sta e lasciarsi andare a qualcosa di sconosciuto perché in effetti il contributo che ognuno dà da un risultato che poi è misterioso in partenza per ciascuno dei componenti e quindi questa è una delle cose che trovo più affascinanti perché portare avanti un progetto collettivo vuol dire portare avanti qualcosa che ha in sé un potenziale altissimo ma anche grandi rischi però io invece credo più nel potenziale altissimo che nei rischi di fallimento e quindi evviva! Grazie